Perché la stella di Rosetta è importante per la storia egiziana? Senza la stella di Rosetta i geoglifici sarebbero stati indecifrati, sarebbero rimasti indecifrati dei disegni senza significato, perché i romani non conoscevano il significato dei geoglifici. Dopo la vittoria di Ottaviano su Antonio e Cleopatra, con la battaglia di Azio del 31 a.C., il regno egiziano diventa una provincia dell'impero romano. Si perde il ricordo di quella scrittura tramandata da padre in figlio difficilmente decifrabile. che riesce attraverso un documento riportato in tre lingue diverse, demotico, greco-antico e geoglifico. La stella di Rosetta a decifrare, nell'Ottocento, la scrittura geoglifica, riportando la storia egiziana a conoscenza di tutti i popoli. Ciao al prossimo video, vi lascio delle immagini sulle cose di cui ho parlato. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.